Sarebbe possibile al giorno d'oggi rifare quegli spettacoli che andavano? Allora, praticamente no, perché è cambiato tutto, cioè è troppo politicamente corretto. Io cecchienese erano veramente due merde, cioè si parlava, si potreva dire quello che si voleva, capito? Senza che nessuno soffendesse, o almeno non lo dicevano se soffendevano, ecco. Ora se te dici una cosa, che ne so io... Tipo sui gay, sulle ciccione... Sui neri, sugli ebrei, su tutti che tu vuoi, si offendano tutti, anche giustamente, però questa cosa influisce un po' negativamente sulla comicità, diciamo, perché? Che succede? Succede se tu hai più argomenti per far ridere, perché per fare ridere che cosa devi fare? Devi pitappare il culo a qualcuno, ti hai capito? Se tu sei troppo buono, cioè se io ti dico, madonna tu sei bellino, fammi ridere, se ti dico, se ti dico, non tu sei brutto, allora fa più ridere, capito? Sì, sì, sì. Eh, vedrai. Però poi se la pigna male, sicché, diciamo, gli si dirà bellino. Ma te mi è successo ultimamente, tipo, fai una battuta, che ne so, sui gay, su qualcosa, e tipo vedi il pubblico e si impietrisce? Ma diciamo che io, a me, più che battute su gay, io, a me, ultimamente, mi hanno un po' criticato perché ero un po' troppo sessista, ecco. C'ho battute più sulle donne. Posso raccontarti una cosa al volo? Ieri ero con la mia mamma e gli ho detto, domani intervista Alessandro Paci. E mi ha raccontato questo aneddoto. Quando io ho due sorelle, noi si erano piccoli, mi si andava al mare a Marina di Massa d'estate. E c'era uno spettacolo dove c'era a Marina di Massa, in piazza, a fare questo spettacolo. Ha detto che ci portarono lì, ma sono dovuto andare via. Oh, allora te lo racconto. Subito, perché eravate parecchio sessisti, i bambini giocavano. Sì, 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 no, no, è vero. Però ti posso fare questo, ti posso dire questo. Quando si fece, con i ceccherini in Mondi, si fece, si faceva Pinocchio, no? Ve lo rivolgerei. Allora si fece Pinocchio 15 anni dopo e si andò a fare al, come si, al tempo si chiamava Sashol. Va bene, il teatro tende a Firenze, che ora si chiama in un'altra maniera, però non mi ricordo più come si chiama. Tuscaniol, forse. No, è ricambiato un'altra volta. Si chiama tipo costruzioni, roba così. E sera al bar davanti, che si stava prendendo l'aperitivo, così. Allora arrivò una signora con due bambini, forse veravate te e la tua sorella. Arrivò questa signora con questi due bambini e disse, si viene a vedere voi? Io gli dissi, signora, secondo me non è il caso con bambini. Cioè non è proprio da bambini, diciamo. E la signora disse, questi due ne sanno più di voi i parolacci. E disse, va bene. Si iniziò lo spettacolo che cecchini era veramente in forma, cioè, perché era 15 anni dopo, poi, insomma, li esagerava un pochino, diciamo, con le parolacce. E questa signora salzò, che era proprio in prima fila, ma c'era, guarda, c'era un mare di gente. C'era la signora in prima fila che salzò, si girò verso di me e fece, avevi ragione, ne sapete di più voi, e li portò via. Però ora è che c'entra negli spettavoli, non è più così, come te lo ripeto, non si possano più fare questi spettavoli. Anzi, ci sono tantissimi comici, specialmente i toscani, che, diciamo, non ti voglio dire ci copiano, però hanno preso ispirazione da quello che si faceva agli ceccherini quando loro erano bambini, che sono questi più nuovi, no? Quando li fanno loro queste battute, sono vecchie ormai, capito? Perché la comicità va sempre, cioè, cresce con la vita, no? Però diciamo che questa cosa, per dei comici come voi, fa sparire un po' l'autenticità, cioè, immagino te che prima di fare uno spettacolo ci devi pensare tre volte, prima di dire qualcosa, No, poi ti adegui, ti adegui. Ah, ok, quindi ti viene più... Ti viene spontaneo, anche, cioè, anche parlando, ora io ho due figlioli, se io li dico per dire le battute, dicevo prima i miei figlioli, li fanno mia ridere. Capito? Che sono vecchie, sono... È obsoleto uno spettacolo. Però, cioè, io se adesso dovessi rivedere per la centesima volta Pinocchio, rido sempre. No, ma anche io me lo so riguardato, mi piscio addosso. Sì, però perché voi l'avete visto prima. Eh, boh, ci stanno. Capito? Se arriva un'ora, se te lo fa vedere a un bambino di 12 anni, mi calma mia, cioè, dice, ma chi fa questo? Capito? Sì, sì, sì.